Ho scritto una nota al presidente Marsilio, all'assessore Veri e all'Asle di Pescara per chiedere che esca una comunicazione chiara sulle terze dosi dei vaccini. Secondo il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli c'è stata confusione nella comunicazione delle modalità di somministrazione della terza dose in provincia di Pescara. Una polemica nella polemica perché ad aggiungersi al disorientamento dei fragili che dapprima dovevano essere contattati, poi si sarebbero dovuti registrare ed ora possono accedere liberamente alle somministrazioni, c'è tutta la querelle che riguarda la localizzazione del lab vaccinale dell'area metropolitana pescarese. Nel frattempo spostatosi dal capoluogo in via Tirino a città Sant'Angelo all'interno dell'outlet village nei pressi del casello A14 di Pescara Nord. Un posizionamento difeso a spada tratta dal sindaco angolano Matteo Perazzetti ma contro il quale si è schierato anche il primo cittadino di Pescara Carlo Masci che continua a chiedere il ritorno del centro vaccinale nel perimetro di Pescara indicando tra le soluzioni la stazione di Porta Nuova o il distretto sanitario di via Riosparto a San Donato. Anche per Antonio Blasioli la scelta di spostare il polo vaccinale a città Sant'Angelo da parte di Asle e Regione Abruzzo non è stata felice soprattutto perché sta mettendo in difficoltà proprio i più fragili cioè le persone più anziane e di disabili. Per gli anziani che spesso sono soli e per le persone fragili che devono essere accompagnate recarsi all'outlet village di città Sant'Angelo è sicuramente un sacrificio anche per le difficoltà di collegamento che ci sono proprio in questi giorni. Quindi facciamo due appelli alla giunta Marsilio, all'assessore Verì in particolare e all'Asle di Pescara. Prima una comunicazione chiara, bisogna capire chi oggi può fare i vaccini, quanto tempo deve decorrere dalla seconda dose, chi si può recare a fare questi vaccini e soprattutto se non è il caso da parte dell'Asle di Pescara di fare chiamate telefoniche, visto che è considerato che hanno le prenotazioni e sanno i tempi di chi già si è vaccinato fino ad oggi.